Salve, buonasera, sono Cristiano Vignali e siamo qui con la responsabile della scuola di recitazione del Teatro Marruccino di Chieti, la dottoressa Giuliana Antenucci, che ci parlerà di uno spettacolo che sabato si terrà presso il Palazzo dei Baroni Torrevecchia. I ragazzi dei corsi di recitazione, gli allievi del corso di innamoramento al teatro e Teatro che passione, sabato alle ore 18 a Torrevecchia faranno uno spettacolo sulle lettere d'amore e le poesie d'amore. Praticamente lo spettacolo ha per titolo parole immortali e sono testi poetici presi da Garzia Lorca e poi ci sono testi presi da Shakespeare e un mix di autori grandi del teatro. Vorrei veramente invitare tutti a vedere questo spettacolo perché è un momento molto bello e un'immersione in un mondo fantastico che è quello dell'amore. Da Giuliana Antenucci, da Cristiano Vignani, dalla cameraman Letizia Serra salutiamo i nostri ascoltatori dal Teatro Marruccino di Chieti. Buonasera.